E tra Playstation 2, Playstation 3, Pikachu, polvere e soprattutto capelli da matto dato che è fase 2 di questa pandemia coronavirus per tutti quanti, diamo inizio a questo video. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti finalmente ad un nuovo video e oggi siamo tornati con un nuovo vlog, un vlog particolare. Va a ripercorrere quelle che sono le stesse iniziative portate avanti dal vecchio video reaction che guardava appunto la mia esperienza della maturità. Ma oggi andremo a trattare un video che ha fatto in qualche maniera la storia del mio canale. Non sto dicendo che quel video mi faccia vergognare o qualcosa di simile, ma semplicemente andava troppo fuori da quello che è il mio stile attuale e quindi di conseguenza era giusto eradicarlo dal mio canale YouTube. Però come ho fatto col video della maturità non ho deciso di abbandonarli definitivamente. Proprio per questo motivo ho deciso di fare una reaction alla prima puntata di una vecchia rubrica intitolata 5 cose che non capisco. I veterani del mio canale si ricorderanno di questa rubrica e si ricorderanno molto probabilmente anche di questo video. In questo caso andremo a parlare di 5 cose che non capisco di una vecchia serie Zimax intitolata Il Banco dei Bumi. Prima di partire col video ragazzi vedrete qui in sovraimpressione su questa televisione quelle che sono le persone che hanno partecipato al mio sondaggio Telegram sul mio canale Telegram che trovate in descrizione. Le saluto tutte quante, le saluto quelle che hanno votato Il Banco dei Bumi ma anche tutte le altre. Quindi grazie mille ragazzi. Ci troviamo sul mio canale Telegram? Quindi non perdiamoci in troppe chiacchiere e immergiamoci in quello che è 5 cose che non capisco del Banco dei Bumi. Buona visione. Anzi buona visione anche per me ragazzi. Sono 3 o 4 anni che non rivolgo a quel video quindi premissima esperienza dopo tantissimo tempo. Oh oh oh. Per il rumore si rivede. Oh era qualcosa di simile. Sì forse. Tegli. Salve. A tutti Allora analizziamo subito una cosa I capelli non sono cambiati più di tanto Nel senso i capelli da matto ci sono sempre stati Con la differenza che una volta usavo la cera per i capelli Quindi rimanevano proprio sparati in alto Poi ah Altro dettaglio bellissimo Avevo intenzione di fare una sorta di watermark Ovvero mettere un mio segno distintivo Per far sì che la gente non rubasse i miei video Però diciamo che Mi occupavo a metà schermo E trattavo del primo test In quanto ho scritto il portale di Chris enorme Benvenuti in portale di Chris Si dimenticato di me nel video? Allora non puoi senza di me Stavolta comparirò solo io nel video Ma come? Perché la gente si è stufata del video Ah ok Allora va bene Qua c'erano le prime interazioni tra i cloni Due me stesso Uno che era proprio me stesso che faceva i video E un altro personaggio che era sempre me stesso Ma più esuberante Molto particolare Che è questo qua che è entrato dalla porta Però devo dire che comunque Beh c'era una botta risposta fra i due personaggi Non era proprio interpretata malissimo Certo Devo migliorare sotto tantissimi punti di vista Però meglio di nulla Ecco Dopo vi andrò a raccontare un'altra cosa Perché sto ributtando queste cose sul mio canale youtube? Non lo so C'è nel senso C'è solo uno che deve stare dietro al canale Quindi basta Basta solo Bresciando Bresciando doc Cosa ci la giochiamo a sasso carta forbici Vabbè allora la giochiamo a sasso Ecco c'è una ripetizione sasso carta forbici Ok dai Ok io ci sono ragazzi ci sono Sono pronto Carta sasso forbici Oh oh Ah qualcuno ha vinto Vabbè ok Salmar light Vabbè questa Taggate stormy Ai tempi lo seguo come un mato Lo seguo ancora stormy Però vabbè Un po' troppo lunga sta battuta Che puoi notare Oh vabbè ho messo gli occhiali da taglife La musichetta con la taglife E vabbè poi stormy Era uno di cui avete seguito tantissimo Io lo tagherei Lo tagherei sotto questo video Perché mi farebbe piacere una sua visita E vabbè adesso ci sarà la intro E poi l'inizio del video Perché fino ad ora non ho ancora detto Un piffero Ma era una specie di extra iniziale Che avrebbe portato ad una saga epica Che per un lungo tempo Fino al 2017 E continuata questa storia dei cloni Che poi ho concluso in un cortometraggio Che trovate sotto il nome di Smetto di fare video E smetto quando voglio fare video Che io vi consiglio tantissimo di andare a vedere Perché in qualche maniera Ho raccontato una storia mia Ho dato una conclusione epica A questa storia dei cloni Di cui vi faccio anche una specie di riassunto All'interno di quel video Quindi diciamo che non vi lascio a zero Ma andiamo avanti La intro che vabbè Mi era stata fatta Non mi ricordo neanche più la persona Che me la fece E' quella che è Andiamo avanti E' caruccia Però Era un template Musichetta ancora fatta Vediamo come comparsa Eccoci Era ora Ma di cosa parleremo oggi Eh? Di cosa parleremo? Eh? Coglione inizi sto cazzo Dei video Che? Porca troia Eh sì Sarà meglio che inizi Video Oggi parleremo di 5 cose che non capisco Del banco dei pugni Sì non so come mai Ma ho detto Facciamo un video su questa cosa Non ha mai visto D-Max Questo canale qui Questo qui E' un grande canale Che sta a grandi programmi Come Mille modi per morire A mani nude Nella falute Magari quelle transazioni Fanno un po' cacare L'Oscar a questi programmi Unti e bisunti E Sì Le transazioni Molto altro C'è Però Avevo già Un'introduzione Ma quello che mi spicca di più Oltre a questa fantasticheria Questa Schiccheria Schic Ma quello che mi spicca di più Dopo Mi l'ho reso conto E ho messo la battuta italiana Corregiuto Avevo comunque Un certo stile di montaggio Non da tutti Sicuramente avrò preso da qualcuno Adesso non ricordo chi Adesso qua dico Schiccheria più volte Schiccheria è il Banco dei pugni Perché? Vi elenco 5 cose che Non capisco Ovviamente tra virgolette Non capisco Ma so che è fatto a Livello pubblicitario Livello Per attirare le masse E qui mi pare E' tutta finzione Anche se lo diciamo No è tutta verità No neanche un po' Quindi Vi elenco le 5 cose Che non capisco Del banco dei pugni Capisco dei pugni 37 volte Effetti speciali Che bella la vita Bravo Vabbè dai Un montaggio carino Numero 1 Ok Facciamo al contrario Vabbè E' la stessa cosa Allora All'interno del banco dei pugni Che è una situazione familiare Abbastanza strana Allora La famiglia composta da lui Che è il capo di tutto Si chiama Les Gold E spacca i pugni Poi all'interno di questa famiglia Mezza disastrata Con dei rapporti familiari Molto strani Tabbiamo dentro Tabbiamo dentro lui Che si chiama Vabbè dai Non è male 7 7 7 7 7 Mentre poi ci troviamo dentro Lei Che non mi ricordo come si chiama Me lo scrivo qua sotto Perché lei mi sta anche sulle palle Qui Che poi Aspetta Questa cosa me la ricordo Aspetta Non mi ricordo come si chiama Lo scrivo qua sotto L'ho scritto Ma in realtà Mi pare di averlo anche scritto Sbagliato Che si chiama Lesi doveva chiamare In un'altra maniera Non mi ricordo ancora oggi Quale Probabilmente mi sta proprio sulle palle Proprio faceva una parte Della opia Detto in parole cattive Perché non conoscesse il programma Si trattava di un banco dei peni Con la differenza Che in questo programma qua Litigavano praticamente tutti qua Che faceva parte dell'intrattenimento Ma forse lo vado a spiegare anche successivamente Non lo so Questa situazione è disastrata Perché è disastrata veramente Troviamo praticamente Magari un giorno Sveglia Lesgold E dice O oggi sono incazzato con lui Seth Che è suo figlio Così via O se no Poi si sveglia questa qua Che non mi ricordo come si chiama Praticamente si sveglia e dice Eh oggi sono incazzato con loro due Perché mi stanno tutti e due sulle palle Cioè non so se è O se non succede questa cosa Che Lesgold E suo figlio Si alleano Insieme Diventano un tutt'uno Per qualche volta Tra l'altro Vengono con la figlia Addirittura Si alleano a una specie sorta di triade E si incazzano Seguimo Stormy Si capisce Incazzano con tutti e gli altri Come Rich Come quegli altri che ci sono Alle casse O comunque Con tutti gli altri Cioè Perché Perché Vabbè dai Punto due Vediamo Come seconda cosa Si tratta di un programma Dove ci sono questi personaggi Ce ne sono anche molti altri Molto meno importante Alcuni Una cosa molto importante Del video E del video Esplosioni a caso E la madonna per sull'orecchie Una cosa molto importante Del programma È il fatto che si tratta Di un luogo Che si trova a Detroit Io facevo questi giochetti qua Dove scrivevo le parole A cavolo di cane Allora questa cosa qua Era guarda qua Perché mi l'ho girato così Dopo nel montaggio Scritto guarda qua Facevo questi giochetti Anche per lo spettatore Nel senso che li ingannavo E in questo caso qua Mi sono ingannato da solo Cioè io Chris del passato Che avevo fatto In modo di ingannare Chris del futuro Sono sconvolto Dove appunto Questi personaggi Possiedono questo negozio Di pegni Cioè Un banco di pegni Questi proprietari del negozio Quando arrivano i clienti Diedono loro Vuoi vendere questo tuo oggetto O comunque lo vuoi lasciare qua Integno Però il problema di questa cosa È il fatto che Possono arrivare anche lì Con il Con Obama Cioè portano proprio Obama Portano Obama E dicono Eh io ho l'Obama originale Ehm Così ma Ma quanto me lo prenderebbe Questo Obama originale? Guardi non ci siamo Perché Veramente Prima di tutto Lei quanto vorrebbe? E io vorrei un miliardo e mezzo Perché mi sembra anche Di aver portato L'Obama originale Quindi non so Secondo lei Guardi Facendo due calcoli Siamo andati già su internet Andati a vedere E secondo me Non vale più di 5 dollari E ci sto anche rimettendo Ah ok No giusto per dire Cioè nel senso Che i prezzi Sono fatti un po' La cazzo Qualche volta ha ragione Qualche volta ha torto Cioè Ok vabbè dai Ho qua raccontato Il fatto che comunque I prezzi erano molto particolari Numero 3 Wow un riverso Un'altra cosa Un'altra cosa Un'altra cosa Un'altra cosa Un programma Nel senso È diventato famoso Proprio per questo È il linguaggio Sì perché Nel programma Il banco di programmi Il linguaggio è quello Che fa da padrone Nel senso che Non è un linguaggio Forbito culturalmente Ma si tratta di un linguaggio Composto da Idiomi molto particolari Da delle parole E anche Dai Idiomi Perché Idiomi Che cazzo vuol Ci sono Parolacce ogni 3 secondi Ed era una cosa Anche divertente Di per sé E qua Reinterpretavo a modo mio Quella cosa Niente E anche i coquetari Cioè Rich Lesgold E la figlia Di cui non ricordo il nome Perché mi stava già sulle fa Ecco Hanno un linguaggio Cioè Biscono a comunicare Attraverso solamente Le parolacce Non so Serendo Cioè Un'inascina qualunque Adesso c'è Uno schizio È questa Va bene Ciao come va Io tutto bene Grazie Cosa ha portato per oggi Voce robotica E meccanica Vi ha indossati Jim Morrison Alla sua ultima apparizione Prima che appunto Morisse E quindi Io pensavo che Almeno 500 milioni Di dollari Di malesse Perché alla fine Guardi Ho anche qua Il suo Certificato E che c'è tutto scritto qui E appunto Certifica che questi Siano veri Fa vedere Praticamente Allora Senti Allora Ma di tutto Questi occhi di qua Sono si di Jim Morrison Ma pagano 10 dollari Ci sto anche rimettendo Ma lasciando perdere Questo discorso Non mi piace ma Senti Vaffanculo 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 Cos'era Vaffanculo Così devi andare Vaffanculo Così devi andare Vaffanculo Sto perdendo Lo titolo No ascolta Però Questo Vaffanculo Qua è carino Secondo me Non è carino Dai Non era Malazio Quindi praticamente Avete capito Che non esiste Linguaggio In questo programma C'è Inizioni Insultarsi Numero 4 Che poi sarebbe il 2 Vabbè dai 4 Facciamo il contrario Prima abbiamo parlato Dei rapporti familiari Molto strani Che ci sono all'interno Di questa bella famigliola Però Una cosa che Ho notato E che è diventata Anche virale Come cosa Quindi non è che l'ho notata Solo io È il fatto Che il papà Alla fin fine Ci tiene i figli Ma soprattutto Meno male Meno male Il figlio Odia la sua vita E quindi Decide anche appunto Di voler morire Cioè Di voler Sembra che lo schiena Fa per fare E quindi Il padre Una volta Dice Mio figlio Poteva morire Mio figlio Poteva morire Mio figlio È ancora in vita Ma poteva morire Mio figlio Poteva morire Ha dei problemi A stare in vita O almeno Questo è quello Che penso io Ultimo punto Andiamo a vedere Cosa sono andato A prendere Per l'ultimo punto Che non mi ricordo Nulla E come ultima cosa Questo personaggio Qui Sì questo Rich Capogluggetelo Una cazzata Sono andato a prendere Una cazzata Prada è simpatica Questa cosa Adesso dovete La capire Perché me la sono Ricordata Quando ho detto Capogluggete Le nostre facce vicine Sì sì Ecco L'avete visto Io c'ho questo E lui c'ha questo Tieni illuminati Con film Finale Un video veloce Ma era per Non lasciare troppo spazio Da un video all'altro Solo per il fatto Che ho molti esami universitari A cui far fronte E che io Batterò Con tutto il mio potere E quindi Io spero Che questo video Vi sia piaciuto E comunque Vi farò altri Tra un bel po' Purtroppo Mi raccomando Lasciate un like Guardate adesso Scrivete quindi i commenti Dai È una figata È una figata Cioè Mi raccomando Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao ragazzi Grazie Che rite Mette giù la telecamera Ah che sudata E gli arriva una scopata In testa Ma non è finita qua Perché adesso vedrete Alzo il rumo Perché mi ricordo Che faceva cagare Cioè ragazzi Che figata Che cazzo è successo Mi hanno colpito Mi hanno colpito Le spalle Porca troia È Giacomino Che parla Non riesco Ad aprire gli occhi Facevo anche L'effetto Dai cazzo Ehi tu Perché mi hai colpito Le spalle Stronzo Perché non c'è spazio Per tutte e due Alla fine Ne rimane Non era male Cioè Un po' imbarazzante Però non era male Cringe Come si scolge oggi E facevo anche La ripresa così Di entrambi i personaggi Dai Ma Cosa andiamo a dire Con questo addirittura Con il Il cappello Yo-yo Di John Cena E poi facevo Questa scena finale In cui si tiravano Un pugno Cioè Non è perfetto Non è centrato Ma immaginate Il casino Per farlo Game Game over Puttani Ne sono uscito A mattito Un look Ciao Ciao Grazie a tutti